Sì, è un consiglio dove tutti i capi del governo e sulla porta dell'ingresso possiamo vedere gli ornamenti che hanno la forma della frutta che si coltiva a Baku è una sposa che si tratta, quindi l'argomento è un'sello dell'ingresso e la loro famiglia è una scolazione e la loro famiglia è una struttura perché la loro famiglia è una scolazione è una scolazione Questi elementi che abbiamo visto qui sono stati usati diverse figure di tutti. La situazione ha iniziato 2000 anni fa, ma prima è stato il Tempio dei Zorazzi Senti. Grazie per la visione. Grazie per la visione.